Buonasera cari amici, una mostra molto particolare qui di una mamma e una figlia qui è la mamma Tina Cervelli e tua figlia Marinella Starita che avete deciso di immortalare con i vostri scatti i tramonti perché secondo te i tramonti sono così amati dagli artisti poeti, scrittori, pittori e anche fotografi hanno scelto i tramonti come oggetto della loro arte perché riescono a culturare il momento più importante di una giornata che sono le sensazioni che ognuno tiene dentro e ne ha l'opportunità di scapolarne, di mostrare il momento Queste sono delle fotografie che però sembrano dei dipinti secondo te l'arte fotografica è un po' sottovalutata rispetto all'arte pittorica dagli esperti o dal pubblico? Sicuramente non lo è in realtà, però da chi non conosce questa disciplina, questa arte viene considerata una tale Bene, e una mamma e una figlia fotografe, chi ha influenzato l'altra? La figlia mi ha affascinato a me, sì, mi ha affascinato a me perché ci sono molto brava di tutti però è molto brava di tutti Ci sono altri progetti, questi che vediamo, questi tramonti? Nel momento mi fermo qui, però il che abbiamo è l'altro tema preferito quindi più da sicuramente ci delizieremo con questo tema Sì, mi ha piacere molto, sì, mi immagino, mi ha affascinato e anche perché di più alle proprie persone che mi saranno questa bellissima immagina Grazie Fina, grazie per la vita Grazie, grazie